...quattro, Mattia! Contiene, con il numero 35, Pasquale! Difensore, con il numero 5, Alessandro! Difensore, con il numero 10, Alvarez! Difensore, con il numero 19, Francesco! Difensore, con il numero 29, Stefano! Difensore, con il numero 35, Almero Stifu! Anche in conclusione, con il numero 35, Almero Stifu! Difensore, con il numero 16, Almero Stifu! Attaccante, con il numero 15, Italiano Caletti! Attaccante, con il numero 16, Daniel Gruzzo! Attaccante, con il numero 17, Stefano Geretti! Attaccante, con il numero 17, Stefano Geretti! Attaccante, numero 18, Mavere D'Occlesi! Attaccante, con il numero 22, Gruzzo! Attaccante, con il numero 22, Gruzzo! Attaccante, con il numero 23, Fabri! Attaccante, con il numero 23, Marzani! Attaccante, con il numero 26, Bruchman Marzani! Attaccante numero 72, Pedro Lola. E qui è un giocatore, attaccante Romolo Palombino, Romolo Santiglione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.